Oggi voglio parlare del bambino che è stato abbandonato e che finalmente una mamma intelligente ha capito che invece di buttarlo a destra manca ci sono delle cuglie apposite in ogni ospedale dove si possono adagiare i bambini che stanno al sicuro al caldo che verranno poi presi in carico e magari fatti adottare e quindi queste mamme danno una possibilità a questi bambini di avere una vita serena, felice e al sicuro se una mamma arriva a fare una cosa del genere molto probabilmente avrà valutato tutte le cose, tutte le conseguenze e quindi avrà maturato l'idea, il fatto che non può crescere questo bambino e vedere che ci sono tutti questi appelli anche di Ezio Greggio che dice alla mamma vieni a prenderti il tuo bambino, vieni a prenderti il tuo bambino mi fa veramente tanta tristezza non mi farebbe tristezza se lo stesso Ezio Greggio gli dicesse mamma vieni a prenderti il tuo bambino, io ti darò un vitalizio e quindi ti aiuterò a mantenere questo bambino e sarai tranquillamente nella tua casa al caldo, al sicuro con uno stipendio mensile che io ti darò e che quindi ti permetterà di avere una vita egregia diciamo così perché sono tutti bravi a far conti in tasca all'altro però poi quando è il momento di in soldoni andare a scavare nella vita di questa mamma, andare a cercarla a tutti i costi è una cosa che sinceramente non trovo giusta perché se questa mamma ha deciso con tutto il suo cuore di abbandonare questo bambino per potergli dare una vita migliore e l'ha fatto proprio mettendolo nella culla significa che lei ha maturato questa decisione è stata una persona molto intelligente che ha amato profondamente questo bambino se lei l'avesse voluto ottenere avrebbe chiesto aiuto ma siccome sa che le istituzioni fino lì arrivano magari glielo avrebbero anche tolto il bambino perché non ci dimentichiamo gli assistenti sociali quanti bambini hanno tolto inutilmente ecco quindi prima di parlare e di dare fiato alla bocca ci penserei un po' di volte con questo tanti auguri a Enea che venga presto adottato e che faccia presto una vita che si merita di fare appello a tutte le mamme che si sentono disperate e che non sanno come fare a crescere un bambino sappiate che negli ospedali li potete lasciare in anonimato quindi nessuno vi dirà niente nessuno vi denuncerà nessuno vi farà nulla ma lascerete il bambino in mani sicure quindi prendete in considerazione questa opzione che c'è, esiste ed è fondamentale ok?